Giorno, sono il signor Tritelloro, mi hanno rubato le bici, sto lavorando a piedi, non solo ce la faccio che stanno male, il lavoro è buono, io sono felice, non mi lavoro, sono a piedi, sono pesso, se qualcuno si può interessare con questa bicicletta, io non ce ne ho soldi, io sono povero, io mi guadagno da vivere la giornata, sto con mia mamma, giustamente... C'ho la bicicletta? La bicicletta per lavorare, perché io sono grande, ho 43 anni. E' una bicicletta vecchia, se me la volete tornare è tornata, perché è ricadata, e giustamente vado per uscire a lavorare, io non ho trovato più la bicicletta, non so come devo fare. E quindi a questo punto? L'appello qual è? Cammino con i soldi, cammino senza soldi, non ho soldi. Vabbè, puntate mai la bicicletta. Se me volete andare a sala per la bicicletta, e nel Catania. Voglio tanto bello a tutti quanti. Staccato! Grazie a tutti.